Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come La storia travagliata di Fedez e Chiara Ferragni è giunta al capolinea? Finalmente i due escono allo scoperto e fanno chiarezza. Tutto iniziò con l'arrivo della malattia, quello che vi diremo vi lascerà senza parole Dopo Sanremo, Fedez e Chiara Ferragni hanno tirato su un polverone mediatico senza fine, ad oggi il fulcro dell'attenzione è sempre su di loro Dopo tanto silenzio, finalmente escono allo scoperto. Con l'arrivo della malattia tutto è cambiato I due si ameranno ancora? Una strana situazione.Non c'è pace per Chiara Ferragni e suo marito Fedez, i quali sono esposti da sempre sotto l'occhio vigile dei loro followers che hanno imparato a conoscerli e a capire quando le cose non vanno Dopo il bacio dello scandalo di Sanremo con Rosa Chemical, è successo di tutto. Il povero Federico adesso non riuscirebbe neanche più a parlare bene, in quanto è sopraggiunta su di lui una nuova patologia, la balbuzia Non si sa se sia dovuta ad un forte stress subito per via di un grosso litigio con sua moglie o ad un inizio di crisi depressiva, quello che è certo è che Fedez non ha potuto nemmeno partecipare alla conferenza stampa della nuova edizione di LOL, insieme a Matano e alla Dandine Per di più ha fatto discutere il fatto che il giovane rapper non si sia presentato nuovamente in veste di testimone per quanto riguarda la strage in discoteca a Corinaldo di qualche anno fa, doveva avevano perso la vita diversi giovani e una mamma di 39 anni Escono allo scoperto secondo il noto investigatore social.Secondo il famoso investigatore social, Alessandro Rosica, tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe tutto a posto I due coniugi escono allo scoperto, dopo la malattia di lui i due hanno giurato di supportarsi sempre, nella buona e nella cattiva sorte Non si sa cosa succederà nei prossimi mesi, come sostiene anche Rosica, quello che è certo è che qualcosa sta succedendo, visto l'allontanamento prolungato di Fedez dai social Come ha ammesso anche lo stesso cantante, sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social, in queste decisioni non c'entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto A presto.Da quello che si può vedere, tra i due si sarebbe risolto tutto, anche se forse i Ferragni e ZA hanno deciso di intraprendere un nuovo stile di vita, totalmente oscuro ai fan In una recente dichiarazione infatti, Rosica aveva dichiarato senza mezze misure, ...amici in comune li vedono affiatati e felici mentre voi a casa sbraitate Ribadisco che si tratta solo di hype, tutto ok tra Chiara e Fedez Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti